Ciao ragazzi, nuovo video di assaggi micidiali. Oggi assaggeremo un succo di frutta un po' particolare della Bravo U, ed è uno dei nuovi gusti, melone e ananas. È molto estivo, noi lo assaggiamo in inverno e abbiamo anche assaggiato quello al ananas e cocco. Era buonissimo, quindi assaggiamo questo e speriamo che... è la Premium Edition. C'è scritto Premium. Peggio è una Collector Edition della PlayStation 3. Agitiamo e andiamo a assaggiarla. Ah, neanche il tappino c'è, proprio neanche la protezione qui. Saliamo. Adesso mi dice lei che sa di melone. Infatti io sento il melone. Io sento il melone. Dottore di melone. Bessiamolo. È un po' slavato, eh. Eh vabbè. Trasparenti. Sembra l'acqua quando fai il risciacquo. Dai, un po' dimmi che non senti l'odore di melone. Sì. Senti un sacco. Sì, adesso sì. E allora. Cin cin. Alla vostra salute, la nostra... No, perché no? È buona. Un sorsino per assaggiarlo. Hai già finito il bicchiere? È buona. Sa di qualcosa che hai già bevuto? Melone. Allora, a parte quello. È buonissimo, sa di melone. Tanto melone... Ma secondo me c'è il punto giusto di ananas, perché... C'è quello sprino dell'ananas. Esatto. Se c'eravete un po' troppo ananas, poi si avrebbe stato troppo aspro. Invece il melone è dolcissimo, si sente buonissimo. Sì, è buono. Sembra il tè all'anguria. Tè all'anguria. Tè all'anguria. Tè all'anguria. No, è quello che stavo cercando di dirti. Sì, sembra il tè all'anguria. Appunto, il tè all'anguria. È quello che volevo dirti. Il primo assaggio di signori che abbiamo fatto. Sì, è vero. E ritorniamo alle origini. Eh, perché meglio male, anguria e melone si assomigliano. Sì, perché sono della famiglia degli anguria e melone. Eh? Sono della stessa famiglia, più o meno. Cos'è il cugino? Già. L'ananas è un parete lontano, lontano dall'Africa a sud. Nord. Io non sto capendo niente. Va bene. Comunque io ve lo consiglio perché è buonissimo. Specialmente per gli appassionati di melone. perché è dolcissimo, è buono. Secondo me è freddo, freddo, freddo è ancora più buono. Sì. Ce l'avevamo appena preso. Vabbè, fra un po' c'è fuori la neve. Magari non vediamo lo giacciato. La mettiamo fuori. Ma anche no. Quindi io ve lo consiglio. Anch'io. È buonissimo. Buonissimo. Approvato. Al prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.